Buongiorno a tutti. Oggi vorrei fare una riflessione. Anche noi sommelier wine lover dobbiamo fare la nostra parte in questo momento. Lo possiamo fare semplicemente scegliendo vini italiani. La nostra ripresa economica passa che attraverso le nostre scelte sosteniamo i nostri produttori di vino italiano. Io scelgo italiano, anzi toscano, ed ambasciatore ad un'opera ricchiante classico scelgo gallo nero. Lo duca ed io per quel cammino ascoso intrammo a ritornarne il chiaro mondo e senza cura d'aver da alcuno riposo salimmo in su e il primo e io secondo. Tanto chi vidi delle cose belle della porta il ciel per un pertugio tondo e quindi riuscimmo a rivedere le stelle. Ce la faremo. Sosteniamo i nostri produttori.